Suona il telefono, la ragazza dice suora io sono qui in piazza Castello, vengo, io sono disperata, eccetera, eccetera. L'hanno coltellata per sacrificare la sacana. E le ragazze hanno sentita dire, signore, perdonale. In occasione della beatificazione di suor Maria Laura Mainetti, TV2000 presenta il documentario Posso tornare a te, domenica 6 giugno alle 19.20. Grazie.